La possibilità di raccontare arte e scienza, spiega il giornalista e divulgatore Alessandro Cecchi Paone. Real Bodies Experience racconta quel momento in cui la divulgazione scientifica incontra il mondo dell'arte, dando l'una una dimensione umanitaria e l'altra una prospettiva che punta all'origine della nostra stessa natura. Al Teatro Margherita si è inaugurata la grande mostra internazionale con corpi plastinati, uno straordinario viaggio all'interno del corpo umano per mostrare il funzionamento dell'organismo e la struttura degli apparati che rendono l'uomo una macchina meravigliosa. Gemellaggio tra scienza e tecnologia, punto di intersezione anche con la scienza più avanzata. È un esperimento che vogliamo fare insieme ai cittadini, afferma il sindaco di Bari Antonio De Caro. La mostra è concepita affinché il visitatore sia parte attiva della visita e il filo conduttore sono le esperienze che coinvolgono il corpo e la mente attraverso la divisione in tre tipologie. L'esperienza didattica, l'esperienza fisica e l'esperienza virtuale, quest'ultima per provare in prima persona alcune esperienze sensoriali legate alla percezione. Real Bodies è dunque costruita come un viaggio attraverso le esperienze legate al nostro corpo. Alcune di esse fanno riferimento alle grandi transizioni della nostra vita e ai meccanismi che la regolano. Altre sono esperienze che la medicina deve affrontare ogni giorno, malattie, fratture, trapianti. Altre ancora ci proiettano in un futuro non troppo lontano. Il corpo aumentato è il potenziamento delle nostre abilità. Siamo macchine a tempo e la scienza, il tempo, può governarlo per un migliore avanzamento degli anni, conclude il magnifico rettore Stefano Bronzini.